benvenuti da FTA online a questo nuovo appuntamento di denari su mercati finanziari io sono Alessandro Magagnoli responsabile dell'ufficio studio del sito FTA online.com siamo all'ultima seduta del mese di settembre termina quindi il mese ma anche il trimestre da settimana prossima inizierà l'ultimo trimestre dell'anno e andiamo quindi a cercare di capire guardando i grafici dei principali strumenti finanziari cosa potremmo aspettarci nel corso dell'ultimo trimestre iniziamo guardando il nostro indice l'indice FUZI-MIB guarderemo questi strumenti sia in termini di grafico mensile per capire se ci sono delle osservazioni utili che si possono fare sia in termini di grafico trimestrale questo è il grafico a candele mensili la candela del mese di settembre come vedete l'ultima candela nera che c'è sul grafico è rimasta all'interno della precedente quindi non ha presentato novità interessanti questo tipo di configurazione è tipico delle situazioni di incertezza o di attesa da parte del mercato non porta quindi a novità interessanti c'è però da dire che le due candele mensili precedenti quindi luglio e agosto invece hanno formato un potenziale tweezer top ovvero sia i massimi di queste due candele sono allineati sui stessi livelli 29.712 e 29.758 quindi queste due candele formano una potenziale figurare bassista che però verrebbe confermata solo al di sotto della base della figura stessa quindi sarebbe necessaria la violazione di 27 380 per completare il tweezer top in quel caso probabile una correzione di tutto il rialzo precedente con obiettivi almeno tra 38 e 2 e il 50 per cento quindi tra 25 mila e 26 mila se disturbiamo per un attimo il grafico a elementi giornalieri vi ricordo che ho segnalato più volte sul grafico giornaliero il rischio che ci sia in costruzione un testa spalle ribassista questa è la figura e questa è la neckline più o meno il target del testa spalle se andiamo a proiettare l'ampiezza della figura dal punto di rottura ci fornisce un obiettivo simile a quello che abbiamo appena menzionato vedete il target intorno ai 25.500 punti quindi per il momento non c'è stata la violazione dei supporti critici ma se dovesse esserci la discesa al di sotto della linea rossa che la neckline a testa spalle e poi al di sotto dei minimi di luglio come abbiamo detto 27 380 potrebbe svilupparsi una fase negativa abbastanza consistente la tenuta del supporto ieri avevamo visto un rimbalzo deciso da quest'area di supporto i minimi di ieri erano a 27 8 e 10 potrebbe favorire un tentativo di rimbalzo però se andiamo a guardare il grafico giornaliero vedete nella seduta di oggi questa è la candela la candela giornaliera riferita alla seduta del 29 settembre c'è stato un return move a toccare dal basso il canale rialzista che parte dai minimi di marzo ma i prezzi non sono riusciti ad andare oltre questa resistenza quindi resta il rischio di una violazione della base del testa spalle anche se per il momento sia questo supporto sia il minimo di luglio rimangono intatti quindi c'è un rischio potenziale di ribasso ma ancora da verificare passiamo adesso al mercato americano andiamo a guardare prima di tutto il grafico mensile dell'S&P500 in questo caso come vedete non c'è stata una configurazione inside non c'è stato una candela all'interno del precedente ma si è vista una decisa accelerazione negativa la candela terminata il 31 agosto era un impiccato una classica candela hanging man la violazione della base della candela c'è stata quindi è stato inviato anche un segnale di debolezza andiamo anche a dare un'occhiata al grafico trimestrale quindi passiamo dal mensile al trimestrale e vediamo che c'è una candela nera che per fortuna non ha violato il 50 per cento della precedente se così fosse stato quindi se ci fosse stata una discesa in chiusura di trimestre al di sotto di area 4250 questa figura sarebbe stata un dark cloud cover quindi una figura di inversione che poteva segnalare l'inizio della correzione di tutta questa fase rialzista durata tre trimestri per il momento resta una situazione di potenziale debolezza data dal completamento del hanging man ma diciamo che sul grafico trimestrale è mancata la conferma del ribasso se dovessimo però scendere sotto 4250 il quadro grafico sicuramente si completerebbe prima di andare avanti con gli altri 11 usa mi sono ricordato che non abbiamo guardato il grafico trimestrale del fuzzimib lo facciamo subito e nel caso del grafico trimestrale vendiamo vediamo una candela con una lunga coda verso l'alto c'è un po di coda anche verso il basso quindi se diciamo la coda verso il basso fosse più limitata sicuramente potremmo parlare di una shooting star quindi vedete è la stessa candela che troviamo qui sui minimi di settembre dello scorso anno ma in questo caso la troviamo dopo un rialzo non dopo un ribasso ma le implicazioni sono sempre implicazioni di inversione in questo caso la sproporzione tra coda sotto e coda sopra a settembre dello scorso anno era in favore della coda di sopra quindi si poteva parlare di un martello invertito in questo caso invece il rial body cioè la parte più spessa della candela è più spostato nella porzione centrale quindi è sempre una candela con una lunga coda verso l'alto che vuol dire che il mercato ha rifiutato la resistenza cioè ha toccato un livello che non è stato in grado di mantenere però c'è stato anche un imbalzo dai minimi quindi sicuramente un segnale potenzialmente debole ma non così tanto come era stato forte diciamo un segnale di inversione che c'era stato un anno fa quindi non è certamente una candela rialzista come le tre che avevano preceduto quella dell'ultimo trimestre che erano nettamente orientate al rialzo e con chiusure vicine ai massimi ma non è nemmeno la candela che si può catalogare come una candela ribassista come ad esempio sono state queste dei due trimestri del marzo e del giugno del 2018 che vedete sono molto simili a quella attuale ma hanno una coda verso l'alto che è molto più sproporzionata rispetto a quella verso il basso passiamo adesso al grafico del nasdaq composito anche qui guardiamo prima di tutto il mensile anche in questo caso abbiamo come nel caso dell'S&P 500 una candela negativa un impiccato che è stata seguita da una candela ribassista che però mentre nel caso dell'S&P 500 si è portata in chiusura al di sotto dei minimi del mese d'agosto nel caso del nasdaq invece i minimi del mese di agosto sono a 13.162 e la chiusura ieri è a 13.200 non so in questo momento come siamo posizionati con il composito fatemi vedere se riesco a recuperare rapidamente la quotazione 13.228 quindi c'è un tentativo di andare a terminare il trimestre al di sopra di quella importante area di supporto che è il minimo del mese d'agosto la violazione in chiusura mensile del minimo della candela impiccato non sarebbe di certo un bel segnale in questo momento il mercato sta dimostrando che non è ancora pronto diciamo a cedere le armi e a avviare una fase di ribasso ripeto siamo veramente a un passo dalla violazione del supporto ma proprio nell'ultima seduta del mese si sta cercando il mercato sta cercando di evitare l'invio di questo segnale di debolezza rimaniamo sul contesto stati uniti e scusate anzi andiamo a guardare un attimo sempre anche il trimestrale del nasdaq trimestrale del nasdaq anche qui abbiamo una candela negativa dopo due trimestri positivi anche in questo caso se andiamo a calcolare i ritracciamenti del trimestre precedente siamo rimasti al di sopra del 50 per cento il 50 per cento intorno ai 12.830 punti sotto il 50 per cento della candela trimestrale terminata a giugno sarebbe stato inviato un segnale negativo perché avremmo una figura da cloud cover per il momento anche sul trimestrale ci sono indizi di debolezza ma non ci sono conferme quindi si può rimanere moderatamente diciamo possibilisti sullo scenario che vede un rimbalzo diciamo del grafico del russell partiamo subito con il grafico mensile a candele mensili qui avevamo una situazione inside nel mese di agosto che si era mantenuta all'interno del mese di luglio il mese attuale invece è sceso al di sotto dei minimi dei due mesi precedenti nel caso del russell non si può parlare propriamente di un tweezertop perché il massimo di luglio e il massimo di agosto non sono esattamente allineati sugli stessi livelli ma notiamo che in ogni caso questi due massimi sono a loro volta allineati con il massimo della candela shooting star terminata a febbraio quindi una forte resistenza che il mercato è stato incapace per due mesi nonostante abbia provato appunto nei due mesi precedenti a superare l'ostacolo il mercato non è riuscito a inviare questo segnale a questo punto diciamo che si è venuta a disegnare questa situazione andiamo un attimo a guardare il grafico giornaliero se disegnata questa situazione di lateralità siamo nella metà inferiore di questa fascia che si sta disegnando da i minimi di dicembre più o meno la metà qui intorno a 1870 siamo abbondantemente nella metà inferiore c'è un testa spalle ribassista che però più o meno ha completato il suo corso per lo meno lo dovrebbe completare sui minimi di marzo e di maggio fino a che rimarremo a di sotto della metà della fascia però l'intonazione resta comunque negativa rimaniamo sul contesto statunitense andiamo a guardare prima i rendimenti forse non ho guardato il grafico trimestrale del Russell facciamo anche questo grafico vedete qui la candela trimestrale è un po borderline per essere un bearish engulfing perché la seconda candela inverte il segno rispetto alla prima è nera invece che bianca per essere un bearish engulfing dovrebbe esserci i due real body che sono il secondo superiore come ampiezza rispetto al primo il livello di chiusura di giugno era a 1889 il livello di apertura di settembre è a 1887 quindi possiamo dire che sono coincidenti però diciamo da un punto di vista formale manca diciamo quei 5-10 punti superiori alla chiusura del mese di giugno per poter parlare di bearish engulfing invece sulla parte bassa del real body avevamo l'apertura di giugno che era a 1804 la chiusura di settembre è stata a 1794 questi sono però i valori riferiti alla giornata di ieri quindi la chiusura di questo mese è leggermente inferiore all'apertura del precedente quindi si può parlare di un bearish engulfing in ogni caso anche se questa figura fosse diciamo accettabile da un punto di vista di costruzione e vi ricordo sempre che è necessario poi il la conferma che verrebbe dalla violazione della base di tutte di tutta la figura quindi servirebbe poi la discesa di sotto di 1705 per dare un segnale di conferma della negatività implicata da questa situazione notiamo se passiamo al grafico a elementi settimanali o giornalieri come abbiamo fatto prima che questa fase laterale di cui abbiamo già parlato potrebbe anche essere un flag quindi una figura di continuazione la base del flag abbastanza vicina passa a 1750 quindi attenzione anche già sotto 1750 il Russell inizierebbe a dare delle indicazioni abbastanza negative dicevamo di rimanere sul mercato americano questo è il grafico dei rendimenti sul bond decennale USA abbiamo una situazione di netta accelerazione rialzista siamo già al quinto mese successivo di rialzo i massimi di questo mese sono al di sopra dei massimi di ottobre dello scorso anno direi che non ci sono dubbi se si guarda il grafico a candele del fatto che questa sia una forte tendenza rialzista che ci sia spazio per un proseguimento ulteriore del rialzo se andiamo a guardare tutta la storia precedente vediamo che siamo in una situazione di una correzione di una prolungata discesa e mentre i massimi toccati a fine dello scorso anno avevano faticato nel superare la prima resistenza che il 23,6% retracement vedete quanti tentativi di rottura di quest'area 4,05% c'erano stati quindi nell'ultimo mese c'è stata invece questa accelerazione che si è lasciata decisamente alle spalle questa resistenza il prossimo livello di ritracciamento è a 6,30 quindi attenzione perché guardando l'evoluzione dei ritracciamenti non è escluso che si possa seguire ancora abbastanza con i rendimenti se questo è vero per i rendimenti USA dovremmo avere un grafico del dollar index in rialzo ah scusate come sempre mi dimentico lo scenario trimestrale in questo caso non dovrebbe esserci grossi sorprese infatti abbiamo anche a livello trimestrale una accelerazione rialzista che ha permesso la rottura di questa forte area di resistenza che erano i massimi del dicembre dello scorso anno quindi anche lo scenario trimestrale non segnala diciamo rallentamenti sul dollar index grafico mensile abbiamo una notevole accelerazione del resto abbiamo visto appunto questi tassi USA così forti che hanno dato il nuovo slancio al dollaro siamo saliti al di sopra di questa resistenza orizzontale andiamo a guardare il grafico giornaliero per capire dove siamo collocati siamo sopra questi massimi di marzo e in termini di ritracciamenti siamo vicini al 50% della discesa che è a 107,20 vi ricordo che nel grafico del dollar index dobbiamo pensare che quando vediamo il grafico salire il dollaro si rafforza a differenza invece di quello che succede sul grafico dell'euro dollaro dove una salita come questa a una salita come questa corrisponde una debolezza di dollaro una forza di euro quindi attenzione quando si guarda il grafico del dollar index a non fare confusione rispetto all'euro dollaro se torniamo al grafico mensile dicevamo non ci sono dubbi sul fatto che c'è un'accelerazione quindi le candele non indicano rallentamenti e anche sul grafico trimestrale decisamente c'è un cambiamento di rotta rispetto alla situazione precedente notiamo che c'è questa lunga candela trimestrale quella terminata a dicembre dello scorso anno che sicuramente si può classificare come un marubozu quindi ha una forte diciamo connotazione di tendenza e sicuramente il suo 50% di rilacciamento il tonale a 108,70 se verrà toccato rappresenterà una forte resistenza quindi 108,70 è un livello sul quale concentrare l'attenzione se quello dovesse saltare sarebbe probabile il proseguimento della fase ascendente abbiamo parlato di tassi e dollaro parliamo anche di petrolio sul grafico del greggio abbiamo visto nell'ultimo mese una notevole accelerazione che però si era già attivata a partire dai minimi di giugno c'era questa area laterale caratterizzata dalla presenza di tutti questi martelli vedete candele con lunghe code verso il basso ne sono comparsi tre praticamente su quattro mesi questo ha una fisionomia simile ma non ha una coda verso il basso abbastanza lunga per poter essere catalogato come martello vi ricordo sempre che è il superamento dell'estremo della candela che conferma le implicazioni in questo caso i martelli erano implicazioni positive però bisognava aspettare la rottura del lato alto dei martelli per dare un segnale di rialzo la cosa è accaduta appunto nell'ultimo mese e alla rottura di questa area di resistenza c'era stata una forte compressione di volatilità quindi era normale che si sprigionasse una energia significativa la cosa effettivamente è successa torniamo un attimo sul grafico settimanale e vediamo quali potrebbero essere gli spazi a disposizione sul mercato ormai si parla insistentemente della possibilità di arrivare a 100 dollari i 100 dollari sono veramente ad un passo notiamo però che l'ultima settimana ha faticato nel superamento di questo 38,2% di retracement questo è il future sul Brent quindi area 97 per il Brent sembra essere una resistenza molto tenace non è detto che la riesca a superare se dovesse superarlo ovviamente avremmo spazio di inserire fino a 105 attenzione però perché senza rottura del 38,2% di retracement c'è sempre il rischio che alla fine questa fase anche abbastanza tormentata che si è disegnata nell'ultimo anno circa si vada a rivelare una semplice correzione penso che sia importante uscire anche un attimo dai mercati che guardiamo tradizionalmente e buttare un occhio al Nikkei che possiamo considerare un po' il Nasdaq dell'Asia o perlomeno sicuramente un indice che fa da traino a quella area geografica sul Nikkei abbiamo una candela impiccato archiviata nel mese di luglio i due mesi successivi non hanno violato perlomeno non hanno violato in chiusura mensile la base dell'impiccato vedete qui siamo al 28 di settembre vediamo qual è stata la chiusura di oggi però avete visto anche in questo caso come avevamo visto nel caso precedente 31,8 e 58 il mercato si dimostra perfettamente allineato con la teoria delle candele nel senso che il livello critico è a 31,7 e 91 siamo a 31,8 e 57 ieri la chiusura era stata a 31,8 e 72 quindi c'è anche se per un soffio la volontà si dimostra la volontà di evitare l'invio di un segnale ribassista che sarebbe poi difficile da mettere in discussione la discesa di sotto del massimo dell'impiccato scusatemi del minimo dell'impiccato sarebbe da considerare un evento sicuramente molto pericoloso quindi allerta in caso di prezzi che si posizioni in maniera insistente di sotto di area 31,7 e 90 per il momento però in chiusura di mese questa area di supporto non è stata violata sul grafico trimestrale abbiamo una situazione di potenziale dark low cover però attenzione perché nonostante la candela dell'ultimo trimestre abbia fatto un salto in apertura rispetto alla chiusura del trimestre precedente vedete pensate che la candela dell'ultimo trimestre ha avuto un'apertura a 33,5 e 18 la chiusura del trimestre precedente quello di giugno era stata a 33,189 quindi c'è stato un salto poi un'inversione di marcia ma non c'è stata la violazione del 50% della candela precedente i minimi sono fermati sul 38,2% quindi sotto 36,30 questa figura diventerebbe molto pericolosa per adesso anche in questo caso segnali sono di rallentamento forse anche di debolezza ma mancano conferme direi che possiamo fermarci qua forse prima di andare avanti però magari possiamo dare un'occhiata al settoriale Eurostox che forse è più sintomatico per quello che riguarda per lo meno il mercato italiano ovvero sia quello del comparto bancario ed è comparsa questa candela molto particolare nel mese di settembre vedete praticamente è una croce con il braccio della croce spostato verso l'alto si tratta di una candela dragonfly doji molto difficile da vedere quando compare questa poteva essere assimilata a un dragonfly doji quando compare se poi viene confermata in questo caso con la violazione del suo limite inferiore difficilmente invia un falso segnale quindi il dragonfly doji se poi viene confermato è uno strumento molto potente vedete qua lo abbiamo visto alla base di questo rialzo molto prolungato quindi nel caso di una comparsa del dragonfly dopo una tendenza ribassista abbiamo una indicazione di forza probabile nel caso della comparsa del dragonfly dopo una tendenza rialzista invece c'è il rischio di un'evoluzione negativa sotto 105 e 60 il rischio di vedere un'accelerazione ribassista per le banche sarebbe molto elevato in termini di candeli trimestrali invece si nota una calo della volatilità per lo meno dei real body vedete real body sempre più piccoli negli ultimi quattro trimestri ma non c'è stata ancora un'inversione di segno quindi per adesso si nota un evidente rallentamento della tendenza ma non ci sono ancora segnali di debolezza di lungo termine vi ringrazio per l'attenzione come sempre vi invito se volete commentare il video a farlo o sulla nostra pagina facebook la pagina di FTA online o direttamente sullo spazio youtube vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì prossimo con il nostro consueto commento giornaliero sul salato